allora eh buon pomeriggio eh ormai la terza parte di questo convegno veramente eh molto interessante molto esigente in cui abbiamo sentito ormai eh tante cose eh veramente importanti sia per quanto riguarda il conflitto che si è aperto a febbraio del duemilaventidue sia per quanto riguarda la questione dei Balcani occidentali eh nelle diverse dimensioni anche quella delle integrazioni europee ehm allora con eh Jens Wolf e con anche Luisa Chiodi che ci ospita eh nella presentazione eh di un progetto e anche di un prodotto di questo progetto di cui adesso cominceremo a raccontarvi ehm devo dire che abbiamo eh in qualche modo eh ideato questo pomeriggio come una cosa poco formale quindi alla fine eh appena prima di prendere la parola eh con il professor Jens eh Volk ci siamo chiesti ma cominci tu o cominci io quindi eh tanto per dire eh vogliamo raccontarvi soprattutto un' esperienza un'esperienza di una ricerca scientifica ma soprattutto una un'esperienza di eh come con alcuni fondi in questo caso e sono i fondi ehm della eh Central European Initiative eh fondi per eh la cooperazione eh diciamo con i paesi dei Balcani occidentali nel nostro caso si tratta soprattutto della Bosnia del Zegovina abbiamo potuto fare qualcosa che per noi almeno nella nostra esperienza accademica va oltre un semplice prodotto scientifico che di solito viene visto come un un qualche conferenza che si è fatta e poi un volume che in qualche modo consacra eh sia il nostro impegno sia i fondi investiti e così via e quindi in qualche modo giustifica la spesa pubblica eh diciamo che va investita in questi progetti eh di ricerca. Eh perché lo dico? Perché ehm questo progetto praticamente coinvolge un gruppo eh dei colleghi delle colleghe eh provenienti da diverse discipline soprattutto certamente eh scienze sociali, scienze umanistiche quindi ci ci sono i costituzionalisti eh diciamo esperti di giurisprudenza, politologi, io sono sociologa e eh altri che si sono in qualche modo eh diciamo che sono stati coinvolti nella nostra ricerca. ehm la ricerca parte come eh prima come un dialogo quindi ancor prima che diventasse una ricerca finanziata quindi con i fondi europei ehm è stata eh come dire una piattaforma di eh di di scambio delle opinioni relative soprattutto a questa situazione molto complessa in cui si trova ancora oggi la Bosnia e Herzegovina. Eh Bosnia e Herzegovina è il mio paese di origine, io sono nata a Sarajevo, ho finito anche l'università a Sarajevo eh sono in Italia dal novanta, dal proprio millecentonovanta gennaio ehm e quindi sono italiana ma sono anche Bosnia Bosnia e Herzegovina. Perché lo dico? Perché nel nostro progetto abbiamo parlato proprio molto di cosa significa la costituzione che costituisce quindi uno stato, una società, una cittadinanza, quindi di diversi aspetti della vita pubblica, collettiva e quella individuale. Quindi questo progetto parte prima di tutto come la costruzione di un network eh diciamo accademico, soprattutto accademico, sostenuto fortemente da parte del eh allora ambasciatore eh d'Italia a Sarajevo, Nicola Minasi e poi eh in seguito eh sostenuto anche dal suo successore eh l'ambasciatore Marco di Ruzza che in qualche modo spinge anche le tutte le università pubbliche a eh suggerire eh delle persone interessate a partecipare ad un dialogo, un dialogo proprio sulla costituzione della Bosnia e Herzegovina. Eh quindi cominciamo ad incontrarci, cominciamo ad organizzare dei workshop, cominciamo ad organizzare anche una eh conferenza molto importante, internazionale, che è stata trasmessa ancora nei periodi diciamo del covid in cui eh non potevamo stare molto spesso eh come oggi eh tutti insieme in uno stesso spazio e poi vinciamo anche i fondi ehm diciamo per un di un concorso della Central European Initiative. Eh questi per questi fondi applichiamo quindi come quattro università della Bosnia e Herzegovina eh molti di voi conoscono la situazione di questo paese che è suddiviso sia sulle linee diciamo eh delle due entità ma anche per quanto riguarda una in particolare la federazione della Bosnia e Herzegovina in dieci cantoni quindi dove c'è ancora oggi molto presente questa divisione eh etno nazionale possiamo definirla così quindi chi sono i bosniaki, chi sono i servi, chi sono i croati e quali interessi hanno per stare insieme eh noi abbiamo coinvolto l'università eh di Mostar Sveuciliste quindi che di solito si dice quella croata, l'università di Sarajevo che di solito si dice ah quella più bosniaca delle altre e poi l'università di Sarajevo Est quindi questa città divisa sono due città oppure un'unica città divisa e infine anche l'università di Bagnaluca. Già questo ci dice che eh in questo progetto abbiamo tentato in qualche modo di coinvolgere gli attori principali certamente eh per quanto riguarda la società accademica eh in un dialogo aperto in un dialogo che in qualche modo sfidava i limiti della toleranza a volte ehm i limiti della toleranza quindi abbiamo dovuto essere molto aperti anche alle opinioni diverse da quelle che di solito eh diciamo sosteniamo e forse via eh da parte italiana come diceva Luisa però volevo ripeterlo l'università di Milano Bicocca che si è prestata eh per essere coordinatore ma che alla fine ha fatto tutto insieme anche con l'università di Trento con Eurac eh di Bose in Bolzano e osservatorio dei Balcani eh eh ehm eh Caucaso e tra a TransEuropa che è stato un partner formidabile colgo l'occasione per dirlo che osservatorio dei Balcani ha fatto veramente dei dei miracoli per seguirci non soltanto diciamo per il glossario ma anche per tutto il progetto Luca Zanoni lo devo proprio nominare Roberta Bertoldi eh Chiara Sighele eh Luisa Chiodi che certamente è stata sempre qua eh Chiara Conte eh per tutte le questioni amministrative quindi praticamente abbiamo avuto eh un partner eccezionale in tutto questo percorso eh quindi inizia questo progetto organizziamo gli incontri uno a Bagnaluca ancora online perché Coid ci impedisce di di viaggiare l'altro a Mostar il terzo a Sarevo Est proprio a Pale che molti di voi conoscono diciamo dai tempi degli anni novanta eh e così via e l'ultima conferenza in aprile a Sarajevo eh perché dico dico questo perché eh parlare delle cose così sensibili così sensitive che creano eh ancora eh diciamo eh dei problemi più grossi a livello proprio delle integrazioni europee e di un avvicinamento della Bosnia e del Zegovina eh all'Unione Europea eh significa oltrepassare continuamente i confini quindi sfidare questi confini eh stare insieme negli spazi condivisi eh che non è tanto dato per scontato perché per esempio eh in un'esperienza precedente eh coordinavo una scuola estiva eh di cui il nome era Rethinking the Culture of Tolerance eh una scuola estiva che ha coinvolto anch'essa l'Università di Sarevo e Università di Sarevo Est e le due Università di Mostar nel duemila quattordici la prima edizione organizzata proprio da eh dall'Università di Sarevo Est dove viene eh fuori che praticamente eh i nostri colleghi dell'Università di Sarevo per la prima volta mettevano in piede sul territorio eh dell'Università di Sarevo Est sono per la prima volta entrati nei palazzi accademici eh di questa istituzione e poi viceversa quindi praticamente questi progetti servono proprio per sfidare i confini per andare oltre per eh creare delle situazioni in cui le persone possono incontrarsi in una stanza guardarsi negli occhi e parlarsi apertamente questo abbiamo fatto negli ultimi quasi tre anni con questo gruppo eh dei scienziati provenienti come ho detto da diverse discipline e eh il prodotto finale diciamo di cui siamo veramente molto ma molto fieri è proprio questo glossario. Prima di dare la parola al al professor Volk che parlerà magari di più di questo glossario vorrei solo introdurlo eh noi due adesso lo presentiamo eh non siamo gli editori di questo libro era impossibile coinvolgere gli editori eh di questo libro che di cui nomi potete leggere anche su per no sì sono visibili molto in alto poi magari apriremo eh anche grazie diciamo all'aiuto ehm magari apriremo anche sulla copertina se possibile sì sì perfetto eh però in qualche modo eh ci hanno anche dato il mandato di parlare di questo libro importante che si era presentato eh tra pochi giorni a venti novembre a Sarajevo eh in presenza anche del dell'ambasciatore d'Italia eh di Ruzza e molti esponenti della vita accademica e speriamo soprattutto molti molti cittadini eh quindi questo glossario eh veramente eh che non c'era neanche eh nel progetto iniziale e devo dire che eh diciamo il l'idea di produrlo era proprio di Jens Volk che un po' si è persa strada facendo però bisogna dirlo vero eh che l'autore di quest'idea è proprio il collega qui accanto a me eh di cui veramente eh siamo eh molto fieri certamente come tutti i libri anche questo deve adesso iniziare a vivere prendere la sua vita eh fare i suoi passi e noi saremo qui ad aiutare questo libro diciamo promuoverlo il più possibile il libro in open access quindi eh chiunque si è interessato sarà molto eh cioè in qualche in qualche giorno penso sarà pubblicato eh sul eh sul sito dell'osservatore dei baccani occidentali quindi potrà essere ripreso è già presente sul sito dell'Università di Sarajevo quindi anche di questo ringrazieremo moltissimo eh diciamo il nostro grantor Centro dell'European Initiative che ha supportato anche l'idea di produrre un volume che sarà accessibile a tutta la cittadinanza a tutti gli studenti e tutte le persone che saranno interessate a leggerlo. eh per tutto il resto magari ritorno se ci saranno delle domande e adesso do la parola a Gens. Grazie mille. Allora perché parlare di eh di questo di questo glossario che eh ovviamente anche per dire subito eh o mettere subito una dosi di realismo eh purtroppo non ci porterà a una nuova costituzione per la Bosnia e Herzegovina o a delle modifiche così no lo dico perché l'ambizione sarebbe ovviamente alta e l'ambizione poteva anche essere di lavorare ad un disegno no di costituzione per la Bosnia e Herzegovina però ehm ehm ringrazio eh Tania per eh quello che ha detto eh Tania è la coordinatrice di questa rete che è proprio questo che sta dietro a questo glossario una rete di di università in tutte le parti della Bosnia più qualcuno eh in Italia e ehm abbiamo iniziato molto prima per la verità abbiamo iniziato nel venti venti eh sullo sugli schermi come tutti perché era eravamo in piena pandemia ma il venti venti era l'anno della opportunità storica per la Bosnia e Herzegovina cioè venticinque anni eh dopo la fine del del conflitto si si pensava adesso il tempo è arrivato in cui si farà il grande salto verso una ovviamente stiamo qui ancora a parlare delle cose allora non è successo questo e avevamo un'idea molto precisa noi che eravamo veterani residui di un convegno con l'ambasciata italiana in cui era anche già coinvolto l'osservatorio esattamente come organizzatori eh e e no non dico eh e eh avevamo l'idea che normalmente si ha cioè mettiamoci lì scriviamo un appello no ti ricordi e abbiamo speso credo due mesi a formulare perché siamo accademici allora abbiamo cercato di no ogni virgola di metterla bene e ogni punto virgola dove forse un punto e così via e e volevamo proprio coinvolgere colleghi bosniaci e colleghe bosniache eh per sostenere questo appello per una nuova costituzione sfruttando questo momentum di questo anno storico di opportunità del window of opportunity la finestra della opportunità e invece abbiamo cercato di di raggiungere ognuno di noi i soliti contatti eh e abbiamo avuto in alcune eh da alcuni le risposte forse meglio di no perché sono ancora professore associato e vorrei fare carriera e se io a Bagnaluca a mostra firmo certe cose potrebbe essere visto proprio per dire le cose molto apertamente allora non solo che non si è andata fisicamente nell'università dall'altra parte ma c'erano anche questi problemi che di solito non ci sono quando c'è un convegno internazionale organizzato tutto alla perfezione tu parli tu no però era proprio e questo ci ha fatto riflettere e da lì è nata proprio l'idea e Tania era fra i primi con una fortissima sensibilità perché questo è anche molto importante in questo tipo di progetti di avere una sensibilità proprio per i luoghi e per soprattutto per le persone di fare di scegliere un altro approccio di scegliere l'approccio della piattaforma accademica di creare un forum per il dialogo continuo di fare rete ed è questo eh su cui di cui proprio eh è questo progetto che alla fine non è niente di speciale è molto faticoso eh anche perché abbiamo cercato ovviamente di dare opportunità ma ovviamente abbiamo cercato di non predisporre come si fa di solito tutto anzi abbiamo sempre discusso anche proprio in plenaria eh le questioni e abbiamo usato un altro trucco che all'inizio eravamo tutti molto scettici che è venuto dall'ambasciatore Minasi eh l'idea di scrivere ai rettori di tutte le università quello che non si fa mai di solito si va per via orizzontale e si chiama il collega no di cui si è letto oppure che si conosce per coinvolgerlo invece abbiamo scelto questa via ed era proprio un bene per dare una legittimazione eh a tutti quanti che lavoravano in questo progetto cioè l'ambasciatore italiano scrive ai rettori e dice rettore nominami qualcuno che sa di quelle cose perché vogliamo fare una rete con eh università italiane e allora chi prima aveva delle perplessità di firmare l'appello con appunto l'avallo del rettore non doveva averle più e così siamo riusciti a incontrare una ventina di persone che lavorano sulle questioni costituzionali in tutto il paese rappresentate tutte le università e per più di due anni quasi tre anni siamo rimasti in contatto continuo anche troppo talvolta ma continuo perché eh Tania ha parlato della del supporto del sostegno della Central European Initiative però sono soldi che coprono davvero le spese di viaggio e qualcosina ma anche questo poco per l'osservatorio cioè non si non si tratta di un mega progetto il progetto è interessante proprio per questa dimensione umana da tutte le parti anche le ore in sovraccarico che ha fatto l'osservatorio ehm e proprio per lo scambio che che è nato e questo e adesso arriviamo alla al tema del del glossario stesso che è un prodotto che appunto all'inizio non era previsto perché è nato da una provocazione e poi da una discussione da una risposta e anche la forma del glossario il ehm ehm come si dice editori boccia i curatori no? Sono stati volontari sono non sa sono stati predeterminati non doveva esserci io o Tania perché siamo noi quelli che hanno in mano il progetto assolutamente no? Il contrario e abbiamo discusso ore su eh su sui trentacinque concetti che volevamo selezionare beh è stato proprio tutto una questione in cui hanno non solo pienamente partecipato ma in gran parte eh ha proprio sviluppato l'iniziativa autonoma loro adesso purtroppo dico loro perché mi sento anche parte in qualche modo di questo mondo ma i bosniaci e le bosniache colleghi e colleghe del del progetto e questo è è già il primo punto eh il secondo punto è eh il metodo di elaborazione poi una volta determinato questi trentacinque concetti che era anche lì un metodo dialogico perché è chiaro se facciamo scrivere una persona un concetto di solito avendo già lavorato su queste cose si sa già di patenza cosa si fa allora abbiamo scelto eh la eh il metodo di coinvolgere almeno due possibilmente anche tre o quattro persone per ogni voce del glossario cioè ogni di trentacinque che è un super lavoro mitigato dal fatto e questo era il trucco col scegliere il glossario mitigato dal fatto che le voci sono o dovrebbero essere alcuni non lo sono ma dovrebbero essere brevi no nel senso che avevamo dato un tre quattromila eh parole eh proprio perché è un glossario non è un volume accademico e l'altro trucco era di cercare di immaginare di parlare di rivolgersi a delle persone che sono cittadini interessati cioè non accademici ma un livello sotto qualcuno che si interessa di queste questioni che legge il giornale che ha già un'idea ma non necessariamente appunto mastica tutte le conseguenze del dibattito accademico e di spiegare questi concetti da una prospettiva così cioè di semplificare oso dirlo no di semplificare queste questi concetti e questo ha poi creato un dibattito molto utile all'interno della della comunità di questa piattaforma all'incrocia all'incrociato all'incrocio eh fra fra tutti perché tutti eravamo coinvolti o come autore principale che si vedeva poi eh appunto di fronte a degli argomenti a contrario da da discussant eh coautori eh o appunto come discussant che dice ma cosa scrivono non è vero doveva no e abbiamo proprio discusso su tutti questi che che non vuol dire che tutti tutte le voci sono perfette ma sono tutte voci che sono state un po' eh appunto prese in mano da più persone viste da più persone e eh e con questo abbiamo cercato di lanciare noi come progetto di lanciare un po' eh la o di di accendere la scintilla di un dibattito frontino perché in Bosnia e Herzegovina non esiste una due riviste sul diritto costituzionale o sulle questioni costituzionali dal punto di vista accademico. Ogni facoltà ha un proprio annuario di solito o una rivista ma non c'è una una comunicazione proprio orizzontale in tutto il paese e questa è la prima volta si può dire che non predisposto da qualche fondazione eh occidentale o da da USAID o o da chi ancora ma proprio dalla Bosnia stesso viene presentato viene elaborato un eh un glossario di questo tipo. Penso che ehm adesso le le questioni erano appunto ehm sono 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 numerose. Abbiamo un indice che appunto sono eh trentacinque un po' come i capitoli eh del negoziali dell'Unione Europea ma questo è puro caso trentacinque e non corrispondono assolutamente. Abbiamo proprio su ehm eh sulla divisione dei poteri sui vari eh rami del potere eh abbiamo qualcosa eh una una voce eh una una sezione diciamo con più voci sulle ehm eh sulle sui enti locali e subnazionali allora anche le entità eh abbiamo una voce eh una una sezione scusate una sezione con più voci sulla sui diritti e sulle libertà poi molto importante i popoli costitutivi come concetto centrale e sempre ancora eh molto conteso e controversamente discusso sugli altri e sui cittadini poi sui principi federali questa è molto lunga perché si sono detto tante cose che potrebbero anche stare altrove ma era molto difficile trovare poi delle suddivisioni con eh convincenti per esempio eh sui principi federali si sono detto anche i principi di veto che non necessariamente sono federali ma sono più consociativi ma e poi la prospettiva internazionale per per chiudere appunto anche con qualcosa di futuro ed è molto importante che questo manuale e questo glossario ci sia anche in entrambe le lingue inglese e soprattutto nelle tre lingue locali ci sono anche ehm voci in eh in cirindico proprio per eh per chi era il primo autore è molto importante questo perché la costituzione come sapete probabilmente non esiste ancora in una traduzione ufficiale eh pubblicata sulla gazzetta ufficiale in lingua bosniaca o nelle lingue bosniache ma è solo in inglese però l'abbiamo si può anche rovesciare questo glossario si rivolge ai cittadini come dicevo ma si rivolge possibilmente anche ai diplomatici che sono nuovi in Bosnia e Herzegovina e così possono leggere finalmente qualcuno qualcosa che non è scritto da un esperto americano ma eh come la costituzione stessa ma eh che è scritto appunto da da un dialogo fra bosniaci e bosniache ecco eh è stato ed è ancora perché siamo un po' masochisti e cerchiamo di andare avanti e di mantenere eh questo questa piattaforma eh un'esperienza soprattutto dal punto di vista umana ma penso anche per i risultati eh davvero unica eh stiamo anche lavorando ad un volume accademico perché alla fine il diciamo l'obiettivo dichiarato era quello di fare una piattaforma accademica allora del convegno e dei tre workshop che abbiamo fatto in eh posti diversi eh stiamo appunto adesso preparando un volume che uscirà per per brill molto accademico e approfondisce alcune di queste di queste voci eh che che qui vediamo ecco questo allora aggiungo soltanto eh pochissime cose eh che poi diciamo mi sono venute in mente ehm eh ricordo quelli che conoscono la storia della Bosnia-Herzegovina e dell'ex Yugoslavia eh prima e durante il conflitto degli anni novanta e informo magari chi nel pubblico non è a conoscenza perché la costituzione della Bosnia-Herzegovina è così importante perché la costituzione deriva praticamente da un ehm da un legato al ehm accordo di pace di Dayton quindi novantacinque prima eh in America a novembre all'Ohio e poi dopo eh il diciamo questo accordo viene firmato a Parigi il quattordici dicembre del novantacinque quindi eh questo paese che ormai eh da diversi anni eh è ehm diciamo incluso nel processo di accessione all'Unione Europea prima come candidato potenziale e poi eh da dicembre del ventidue come candidato eh per la membership dell'Unione Europea eh si basa quindi su eh una costituzione senza costituente vera eh che eh continua a perpetuare una serie dei problemi eh diciamo dell'assetto non solo politico ma anche quello sociale quello culturale eh economico del paese quindi eh la discussione della Bosnia-Herzegovina sulla costituzione è una discussione che comunque esiste esistita anche nelle versioni precedenti non è la prima volta che si discute anche dal punto di vista della società civile eh della Bosnia-Herzegovina ci sono state le ondate eh diciamo di ehm eh di affrontare anche da dalla prospettiva della società civile eh di di questo problema ma il problema persiste quindi eh la condizionalità delle integrazioni europee di cui abbiamo parlato nel pannello precedente per esempio eh si basa anche sulla necessità di eh fare una eh radicale riforma di questa costituzione e quindi questa radicale riforma a molti eh a molte delle elite politiche sembra come un tentativo di cambiare l'assetto quindi eh strutturale politico del paese e quindi eh trova continuamente delle grandi resistenze dalle elite politiche attuali soprattutto da parte diciamo dell'elite della Repubblica Serbska ma non meno anche eh da parte diciamo di alcune almeno alcune parti della 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 federazione e quindi ehm parliamo veramente di eh una questione una ferita aperta una ferita aperta ferita proprio ehm diciamo della della guerra ma degli anni novanta che ancora non eh permette a questo paese di rimarginare possiamo dire così diciamo tutte le questioni aperte e di iniziare veramente eh un percorso nuovo eh una ferita che ha portato anche ad una diciamo eh continua divisione del paese l'impossibilità di eh diciamo dei 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 cittadini anche soprattutto quei giovani le giovani generazioni di incontrarci di incontrarsi e di parlarci di parlarsi di fare delle cose insieme quindi ehm per raggiungere un'altra dimensione diciamo di qualità di questo progetto anche nella diciamo nella strutturazione di questo glossario ma soprattutto del progetto eh vorrei raccontare anche un'altra ehm cosa che abbiamo fatto per esempio nella ultima fase del progetto eh prima e durante la conferenza eh finale di aprile di quest'anno ed è stato proprio coinvolgere i giovani eh costituzionalisti delle università della Bosnia e del Zegovina eh nel progetto eh sono stati invitati eh con spese sostenute eh dal progetto alla conferenza eh finale e hanno avuto un'intera mattinata eh per discutere a porte chiuse quindi senza i senior possiamo dire così eh molto apertamente ehm dei nervi scoperti della questione costituzionale quindi ehm questo è anche per noi è stato diciamo un un esempio veramente diciamo sorprendente per il successo che abbiamo ottenuto eh i giovani eh costituzionalisti di Bagnaluca eh e anche di Sarajevo Est eh era la prima volta che mettevano piede dentro la facoltà di giurisprudenza e dentro il rettorato eh di Sarajevo per esempio ecco solo un esempio per essere accolti poi da eh due eh diciamo da tre rappresentanti eh diciamo da dei giovani studiosi eh dell'Università di Sarajevo sono venuti anche da Sveucceliste e così via quindi da questo punto di vista abbiamo eh diciamo avuto una discussione loro eh quando volevamo interrompere questa discussione ci hanno buttato fuori quindi hanno detto abbiamo bisogno di altri venti minuti mezz'ora e li abbiamo visti la sera a cena discutere animatamente di scambiarsi l'indirizzo e continuano a lavorare insieme quindi se c'è un meta obiettivo diciamo di tutto questo percorso è proprio quello di mettere soprattutto le giovani generazioni che sono magari speriamo meno diciamo eh coinvolte in tutto il bagaglio tremendo emotivo che invece noi che siamo più adulti eh ci portiamo sulle spalle ancora oggi eh penso che sia eh diciamo un veramente un obiettivo molto molto importante ehm sì aggiungo solo su questo punto che ehm non so se l'hai detto proprio eh bene scusami se se dico no nel senso che questo è un dettaglio importante ha detto tutto bene ma manca forse un dettaglio che no 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 è il dettaglio è che che l'idea di coinvolgere i giovani è venuto fuori proprio dai colleghi bosniaci eh e non da noi anzi eravamo quasi in imbarazzo perché avevamo un'altra idea e dopo eh il terzo workshop abbiamo con un gruppo allargato partecipanti dei progetti parlato e pensato cosa facciamo a questa a questo convegno avevamo una mezza giornata prevista e è venuto proprio dai colleghi bosnieci l'idea di coinvolgere le persone giovani con riferimento ad un aneddoto che due di loro vent'anni fa si erano conosciuti ad un convegno e così via ed era questo molto bello ed è questo anche così come abbiamo fatto adesso ho fatto io con Tania di solito lo fa viceversa anche noi ci siamo spesso frenati proprio per dare spazio ai bosniaci perché questo è il senso della costruzione di questa piattaforma e chiaramente nel mondo accademico questo un po' insolito perché di solito siamo tutti contenti di poter parlare e di avere spazi però il senso era qui di costruire qualcosa e avevamo la grande fortuna anche questo è importante di avere con l'osservatorio una piattaforma che ci ha permesso sia anche di pubblicare e se guardate il sito del progetto lo potete li potete trovare dei paper anche già durante il corso del progetto ci sono anche cose interessanti da leggere e anche un continuo stimolo di riempire questa pagina del progetto e in più abbiamo poi avuto la possibilità adesso di o avremo la possibilità di pubblicare anche qui questo questo glosario in questo senso credo che sia davvero un po' unico questo progetto e collegandomi a quanto discusso ieri sera e soprattutto anche stamattina dovrebbe essere un po' questo il metodo quando si vuole arrivare a delle soluzioni sostenibili ci vuole tempo ci vuole impegno si vuole impegno con persone e si vuole si deve si devono sostenere proprio queste reti che poi anche se magari hanno delle parti deboli si sostengono a vicenda e fanno proprio massa critica e credo che dopo questi due tre anni di questo progetto sia davvero nata una piattaforma che probabilmente speriamo e faremo il nostro meglio sopravviverà anche questo questo progetto in modo di appunto andare avanti o creare questa massa critica che sarà determinante quando sul serio si dovesse cominciare a parlare alla di una riforma potenziale costituzionale grazie grazie sono marco boato telegraficamente primo congratulazioni vivissime entusiasmante sentirvi secondo prevedete una traduzione italiana di questo volume terzo eh quali sono le proposte essenziali se non stareste qui tutto il giorno di superamento di riforma dell'attuale assetto costituzionale quarto quale strumento istituzionale immaginate per un'eventuale riforma costituzionale nel senso che eventualmente indicherete e appena un po' il di la mano può aprire domande mi sono scusa è molto vuoi iniziare tu? grazie mille per i complimenti Senti, allora, io prendo la parte semplice, sono curioso, lascio la patata volente invece al costituzionalista, io sono sociologa politica, quindi mi interesso soprattutto delle questioni relative proprio alla sfera politica, alla cittadinanza e così via, però rispondo prima per quanto riguarda la sorte di questo glossario. Allora, abbiamo fatto veramente tantissima fatica di produrlo in lingua inglese e poi in lingua bosniaco, serbo e croato. Le traduzioni dipendono sempre dai fondi, quindi dobbiamo cercare un fondo per pagare un traduttore e quindi tradurlo anche in italiano. Non lo so, questo veramente bisogna vedere quando riusciremo a concludere questo progetto, ma sarebbe sicuramente molto interessante. Aggiungo anche questa dimensione linguistica che è molto importante per il glossario. Non è stato così semplice produrlo in queste quattro lingue in effetti, perché le lingue serba, croata e bosniaca sono lingue ufficiali della Bosnia e del Zegovina. E quindi lasciare completa libertà a tutti gli autori di scrivere nella propria lingua, quella che considerano la propria lingua e anche nel proprio alfabeto, perché troverete, come diceva Jens, in cirilico, che complica ancora di più le cose. E in particolare quando si trattava, per esempio, di due autori, di cui il primo autore scriveva in croato e il secondo autore scriveva in bosniaco serbo. Quindi anche lì c'è stata, come dire, non c'è stata neanche la necessità di mediare. In qualche modo le persone si sono accordate. Io vi posso raccontare la mia esperienza, perché sono terzo autore di una voce scritta da Jens come primo autore sulle integrazioni europee, il secondo autore di Sveucidiste di Mostar, Domago Galic, e io sono il terzo autore. Allora, il testo è stato scritto in lingua inglese, è stato tradotto da me in lingua più croata possibile. Il mio è un serbo croato, croato serbo. Io sono ormai da 34 anni in Italia, quindi sono rimasta proprio una lingua vecchia, come dire, non è aggiornata. Però ho cercato di renderla più vicina al secondo autore. Lui ha trovato due o tre, diciamo, cose da correggere, non di più, quindi sono stata molto brava a tradurla in croato, che magari non è proprio la lingua con cui parlo, quando parlo, diciamo, nella lingua madre. E così via. Io, per esempio, ho scritto il pezzo sulla cittadinanza. Di solito scrivo in italiano e in inglese. Ormai non scrivo nella mia lingua, però ho detto provo a scrivere nella mia lingua. Anche questo non è stato facile. E poi è stato tradotto in inglese e così via. Quindi questa dimensione linguistica è stata una vera e propria sfida, anche quando abbiamo dovuto chiedere una revisione linguistica della parte bosniaco-croato-serba, perché abbiamo dovuto dare le indicazioni a chi ha fatto la revisione di non correggere la lingua originale. Quindi abbiamo dovuto cercare una, diciamo, una professionista che era capace di revisionare tutte le versioni, diciamo, delle lingue che, come sappiamo, sono molto vicine, ma ci sono anche le differenze. Quindi da questo punto di vista, certamente tradurlo in italiano dovrebbe esserci un interesse da parte di, diciamo, di chi ci può offrire un fondo per tradurre questo libro anche in italiano. I traduttori dell'osservatorio sarebbero sicuramente disposti a farlo, però certamente non gratuitamente, perché ormai tanto lavoro è stato fatto. Allora, l'altra questione, come dicevo anche prima nel mio intervento, non è la prima discussione sul tema della Costituzione della Bosnia e del Zegovina. C'è stato un periodo in cui siamo stati anche abbastanza vicini a risolvere, o almeno iniziare a risolvere dei problemi. Si tratta di questo famoso pacchetto di aprile 2006, che invece è decaduto perché alcuni esponenti dell'elizzo, soprattutto della federazione all'epoca, alla fine non hanno voluto, diciamo, appoggiare questo pacchetto. C'è stato tutto il lavoro della Commissione di Venezia, di cui magari Jens ci può dire un po' di più. Quindi si lavora intensamente dopo il pronunciamento della, come si dice, judgment, giudizio, della sentenza famosa se i disfinzi non entrano nel merito nel 2009, si è imposto un nuovo problema, in quanto l'applicazione di questa decisione della Corte Europea per i diritti umani è diventata una delle condizioni per continuare nel processo di integrazioni europee per la Bosnia e del Zegovina. Si sono aggiunti altri casi, altre sentenze, la questione non è mai risolta perché per essere risolta la Costituzione deve essere radicalmente cambiata. Quindi condizionalità per le integrazioni europee continua a dipendere fortemente proprio dal, diciamo, abbastanza radicale cambiamento della Costituzione. Da questo punto di vista c'è stata nominata anche la Commissione nazionale dopo, diciamo, questa sentenza nel 2009-2010, 11-12 e alla fine questa Commissione non ha mai prodotto un risultato che avrebbe potuto essere accettato da tutte le componenti politiche nel assetto costituzionale attuale perché praticamente questo è un po' paradosso perché praticamente le elite politiche che continuano ad avere il potere nella Bosnia e del Zegovina da una tornata elettorale all'altra con pochi cambiamenti perché non cambia in sostanza la politica delle elite rappresentative non hanno interesse sufficiente, possiamo dire così, nel cambiamento della Costituzione. Quindi i tentativi ci sono stati, sono stati i tentativi veramente molto, molto intensi, molto, come dire, intenzionati a cercare una conclusione che avrebbe potuto essere applicata, citata, però finora siamo ancora in questo stallo e sicuramente il glossario non smoverà la situazione, ci vuole sicuramente, si è parlato della volontà politica, anche nel panel precedente, una volontà politica sia europea sia degli attori locali affinché la questione costituzionale nella Bosnia e del Zegovina sia risolta in un modo molto, molto più, diciamo, decisivo di quanto lo è ora. Quindi, yes, magari potrebbe entrare più nel dettaglio. Sì, grazie. Allora, domanda tre o quattro. Già le prime due o la seconda era difficile e adesso anche avete già compreso e se conoscete il caso lo sapete. Per fortuna c'è il condizionale in italiano. Sarebbe chiaro cosa si dovrebbe fare? Cioè, gli argomenti sono chiari. Passa a leggere il parere della Commissione sulla futura adesione della Bosnia e del Zegovina del 2019 in cui sono quattordici priorità chiave che sono state menzionate anche prima e fra questi ci sono almeno sei o sette che riguardano proprio cambiamenti che avrebbero necessità di una modifica costituzionale. Allora, in primis, come ha detto Tania prima, è questa giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo a Strasburgo che riguarda lo status degli altri, di chi non si dichiara, di chi vive nella parte, tra virgolette, sbagliata per poter liberamente scegliere un membro della Presidenza e anche rappresentanti della Seconda Camera a livello statale. Queste sono delle limitazioni giustificate dopo la guerra con l'idea di mettere un sistema di democrazia consociativa per stabilizzare la situazione nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani e invece un meccanismo tendenzialmente, almeno con questa rigidità e questa intensità, temporaneo, provvisorio, che si dovrebbe man mano ammorbidire oppure addirittura abolire, anche se la Corte dice no, ci sono altre forme di democrazia concertativa meno impattanti sui diritti individuali. E lì sta il punto, sono proprio delle garanzie a favore dei gruppi che contrastano con i diritti individuali, in questo caso diritti politici e questo autunno, in ottobre, c'è stata un'altra sentenza, attualmente siamo al primo grado, forse ci sarà un appello, che va ancora oltre, Kovacevic, si chiama la sentenza, che prende questa giurisprudenza precedente che era sul diritto di candidarsi e lo applica anche al diritto attivo, cioè al diritto di votare e questo vuol dire che praticamente tutto il sistema in qualche modo dalla prospettiva di Strasburgo non è sostenibile. E una frase chiave dalla prima sentenza 16 Finzi è proprio quella, quello che si poteva giustificare per mettere fine alla guerra alla luce dei successivi sviluppi non necessariamente può essere giustificato nello stesso modo oggi. Il principio di proporzionalità o di ragionevolezza nella sua dimensione temporale. E questo è qualcosa che va totalmente contrario all'idea dello status quo e del mantenimento dello status quo che un cartello di partiti etnici in Bosnia ha come agenda. E allora lì il discorso, la prospettiva dinamica il paese e l'evoluzione del paese contro l'idea statica noi dobbiamo rimanere ancorate perché altrimenti e poi qualunque tipo di minaccia che volete inventare potete proiettare su questo per giustificare, no? E siamo proprio in questa situazione. Adesso domanda numero quattro come si arriva dalla analisi a cambiare le cose? Questa è la domanda da milioni di dollari come si dice sempre. Io, ci sono varie teorie una teoria molto diffusa nel dibattito accademico e il cambiamento graduale. Cioè dobbiamo fare piccoli passi. Io non credo che funzioni. Perché un po' come il discorso che ha fatto Davide Denti prima sulla unanimità in tutti i passaggi c'è sempre poi il potere di vetro di qualcuno e si vuole il Big Bang. Ci vuole un Dayton 2. Io non lo chiamerei così ma perché sarebbe poco elegante e non sarebbe la stessa cosa. Adesso posso collegarmi al metodo del nostro progetto. Ci vorrebbe la spinta dall'esterno di fare qualcosa di sottolineare la necessità. Forse rispetto al nostro progetto in più, però questo c'è già una individuazione dei punti cruciali in ogni caso da toccare e da cambiare in un certo modo. Però il modo, le modalità le opzioni il dibattito quello dovrebbe essere assolutamente interno e la comunità internazionale che comunità non è come sappiamo ma in questo caso l'Unione Europea dovrebbe limitarsi a mettere a disposizione uno spazio e un po' di pressione di andare in una direzione nel senso di non poter rimanere statici e che lo status quo non sia un'opzione. Questo è difficilissimo non ci sarà però io non vedo altra possibilità perché secondo me questa idea che adesso mettiamo una virgola qua una virgola là non ci porterà ai risultati che sono necessari per non aspettare altri vent'anni per questa prospettiva europea di cui abbiamo parlato prima di pranzo. Grazie.